Ciao ragazzi, oggi approfittando di questa bellissima giornata siamo al Cospuna Narsè è uno dei due laghi presenti a Mark Kleberg, veramente si sta troppo bene volevamo parlarvi dei nostri tre ristoranti non italiani preferiti a Lipsia il primo ristorante che voglio citare è quello presente all'interno della galleria Kaufhof si trova in centro, molto vicino al Markt, ovvero la piazza del mercato di Lipsia ed è un punto strategico per i nostri sabati di shopping si mangia bene, ci sono soprattutto piatti della cucina tedesca i prezzi non sono troppo alti, infatti noi ce la caviamo sempre con una trentina di euro e questo perché non ci sono camerieri ma è tutto self service ci sono parecchi piatti già pronti o comunque delle verdure che si possono mettere direttamente nel proprio piatto e comporre il proprio piatto a proprio piacimento e si può pesare poi la cassa e tutto questo è offerto a buffet oppure c'è un'altra selezione di piatti o di panini che vengono ordinati direttamente in cucina e preparati sul momento il locale si trova al quarto piano della galleria Kaufhof il cibo è comunque molto buono, io di solito prendo un menù col panino e di solito c'è anche una porzione di patate ferite insieme Valentina e Matteo di solito prendono la schnitzel con le patate la schnitzel sarebbe una specie di cotoletta impanata di pollo di solito il ristorante è molto grande e c'è un sacco di posto a sedere è talmente tranquillo che spesso l'abbiamo utilizzato come location per girare alcuni nostri video senza dare troppo nell'occhio per questo, per la buona cucina, per il fatto che spendono solitamente in tre non più di 30 euro perché noi comunque non esageriamo col cibo è uno dei nostri ristoranti preferiti a Lipsia per i prossimi due invece chiediamo direttamente a Vale di raccontarveli il secondo ristorante che amiamo è Les Pitas è un ristorante messicano che fa parte di una catena che ha altri locali in altre città tedesche fra cui la vicina Halle è un locale in cui si mangia molto bene la domenica a pranzo propongono un buffet a prezzo fisso bevande escluse che include piatti tipici messicani fra cui enciladas, chimichancas e tanto altro ma anche carne, verdure, dolci fra cui i miei adorato i ciurros è un locale molto grande con un'area giochi immenso sì con un'area giochi che Matteo ama particolarmente e anche un'area esterna con una piccola piscina è molto carina anche la decorazione l'arredamento del tutto tutto a piastrelle in stile messicano e poi tante immagini della Santa Muerte è anche carino il fatto che arrivando tu capisca già che sei un messicano perché fuori, sulla strada c'è uno scheletro finto vestito con abiti tipici messicani noi amiamo particolarmente questo posto perché innanzitutto perché si mangia da Dio noi amiamo la cucina messicana quindi tanta roba poi veramente è un all you can eat quindi ti puoi abbuffare di quello che vuoi ci piace l'area giochi perché andiamo Matteo lo perdiamo lì e gioca tranquillo al chiuso sicuro e poi il fatto che comunque nonostante sia molto grande molto tranquillo nel senso che c'è gente però sono tutti abbastanza distanziati quindi non c'è mai troppo affollamento e poi puoi stare quanto ti pare nessuno ti caccia via anche dopo parecchie ore che sei lì il terzo ristorante ma non ultimo in ordine di preferenza è un ristorante greco si chiama Philoxenia e si trova poco fuori Lipsia in un altro comune che si chiama Markleberg quindi niente il ristorante è molto buono si mangia molto bene è un bellissimo locale sia dentro che fuori c'è... vabbè ti volevo essere anch'io tu ci sei sempre Matteo guardate guardia vai giocare ancora un po'? va bene grazie dicevo prima dell'interruzione il locale è molto carino dentro è arredato tutto in stile un po' greco c'è un'area esterna fuori molto bella in cui si può mangiare d'estate e c'è anche una piccolissima area giochi con giochi però più da bambini piccoli gli scivoletti piccoli quant'altro il menù è molto buono si mangia di tutto ovviamente specialità greche quindi gyros su vlachii tiro pitachia ma che buona questa roba qua si parla di tiro pitachia tutte cose con feta spettacolare ma anche le verdure la carne insomma è tutto buonissimo a noi piace molto perché si mangia bene noi siamo estimatori della cucina greca quindi ci andiamo spesso ci piace comunque il fatto che essendo fuori Lipsia i prezzi sono più contenuti ci sono tanti ristoranti greci nella città però quelli più vicini al centro sono sicuramente più cari adorando la cucina greca ci andiamo spesso per ricordarci di quanto bene si mangi in Grecia e dobbiamo tornare in Grecia sono assolutamente d'accordo in Grecia si mangia troppo bene si ricordi di Atene veramente di mangiate è tanto tempo che non andiamo prima o poi ci capiteremo ogni scusa è buona per viaggiare allora questi qua erano i nostri tre ristoranti non italiani preferiti esatto se voi ne conoscete altri o avete altre idee da suggerirci scrivetecela nei commenti anche non Lipsia magari ne approfittiamo per qualche viaggio in Germania a noi piace tanto provare ristoranti nuovi però ci piace anche tornare nei vecchi sappiamo che ci piacciono è una sicurezza esatto e noi vi ringraziamo per averci seguito vi invitiamo a lasciarci un like a iscrivervi al canale che dobbiamo arrivare a mille siamo molto vicini e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao